Presso l'azienda agrituristica De Bernardis, in occasione del terzo Memorial dedicato a Pasquale De Bernardis. Tre giornate ricche di eventi, vediamo di che cosa si tratta. Siamo con Giuseppe De Bernardis, oggi è una giornata particolarmente importante, l'inizio di una tre giornate di eventi ricca di appuntamenti. Di che cosa si tratta e a chi è dedicato questo evento? Questa è una manifestazione che organizziamo da circa due anni, da quando papà è scomparso, uno dei concorsi che noi facciamo durante l'anno, ne facciamo circa uno ogni due mesi e questo ormai è diventato un appuntamento fisso per il circuito regionale. Di solito si tiene sempre in questo periodo. In questa occasione abbiamo anche le selezioni per Verona, che è una gara grossa che verrà organizzata fra 15 giorni circa su Averona e alcuni migliori binomi saranno scelti per andare per rappresentare la Puglia in questo concorso su Averona. A chi è aperto questo concorso? I partecipanti sono tutti gli iscritti alla federazione, alla FISE, di tutti i centri della Puglia, ci sono alcuni centri della Calabria, della Basilicata. Abbiamo circa una decina di centri che fanno parte, che sono presenti in questa manifestazione, con circa 200 iscritti, più di 150 cavalli. Sono tre giornate con l'inizio appunto oggi, venerdì, sino a domenica. Come si svolgeranno questi appuntamenti? Sì, la gara comincia dal venerdì, ha cominciato oggi verso le 10 e finirà in serata. Prima che faccia buio riusciamo a finire per oggi. Poi abbiamo domani, sabato, dalle 9 circa fino alle 6, ci sarà solo una piccola pausa pranzo e domenica. Forse domenica non riusciremo a fare la pausa pranzo perché gli iscritti sono tanti e la manifestazione continuerà dalla mattina fino alla sera. Domenica forse è la giornata più ricca e permetterà anche ai cittadini di venire ad osservare questo grande spettacolo. Sappiamo che ci sarà anche una premiazione, si parla di un montepremio di 7500 euro. Chi sarà in giuria e che cosa accadrà domenica? Sì, la manifestazione è aperta a tutti, l'azienda è aperta, chi vuole può venire a dare un'occhiata. Magari i ragazzi si avvicinano a questo sport che è uno sport poco conosciuto e noi ad Altamura siamo forse l'unico centro che ha la possibilità di ospitare queste manifestazioni. Quindi magari gli spettatori si avvicinano più facilmente a questo sport che è uno sport poco pubblicizzato sulle reti tv. Per il montepremio sì, c'è un montepremio in denaro che verrà diviso nelle varie categorie. Quella più grossa è la 1,35 m dove c'è il maggior montepremio. Il resto poi a scalare fino a 60 cm di altezza, ma su quelle piccole categorie non ci sono montepremi. Ci saranno dei premi d'onore tipo coccarde, coppe o degli oggetti che fanno parte dell'abbigliamento del cavallo o del cavaliere. Siamo con Marcello Passoforte, presidente di giuria, in occasione di questo evento, un memorial per Pasquale De Bernardis. Come si svolgeranno queste giornate e da chi sarà affiancato in giuria? Innanzitutto buongiorno a tutti e agli spettatori. Io in giuria in questa occasione sto facendo per l'appunto il presidente perché c'è una sorta di turnazione. Noi presidenti di giuria, negli eventi che vengono organizzati in regione, ci alterniamo alle presidenze. In questo concorso sono affiancato da Maria Grandinetti, che è una colonna portante dell'equitazione pugliese, 40 anni che svolge attività di giudice. Quindi grande esperienza e una garanzia per i concorrenti, per tutti noi. E' una signora che conosce questo ambiente molto bene per aver fatto anche consigliera nazionale alla federazione a Roma. C'è poi Lionello Leopardi, anche lui un uomo di grande esperienza, un istruttore, un uomo di cavalli. Lui viene dalla Campania. E poi come terzo giudice, qui è presente Ida Andrisano, che è la responsabile referente dei giudici a livello regionale. Pertanto davvero una selezione di giudici molto esperti, molto capaci. Le giornate del concorso di questo Memorial sono le classiche tre giornate. È un concorso a una stella ed è dotato di 7.500 euro di montepremi. Ha attratto molti cavalieri dalla regione, molti cavalieri di cartello importanti. E non solo dalla regione Puglia, perché ci sono anche dei concorrenti presenti dalla Basilicata, dalla Calabria. Ovviamente questo è un evento da considerare fra i più prestigiosi che si svolgono qui in Puglia. E la famiglia De Bernardis organizza con una certa frequenza questi concorsi ad Altamura, attraendo, ripeto, almeno 6-700 persone addette ai lavori, fra cavalieri, istruttori, famiglie dei cavalieri e quant'altro. Quindi senz'altro un indotto anche per il turismo e il commercio della vostra città. Ecco, in merito a questo è appena avvenuta una premiazione. Per i meno esperti, quali sono, se possiamo spiegargli, i criteri da utilizzare per capire chi è il più bravo in campo e quali sono i vostri criteri, quelli tecnici, che utilizzate appunto per premiare il migliore? Allora, questo sport, in particolare, a parte qualche categoria così chiamata a giudizio, è uno sport molto semplice. Se la barriera cade c'è l'errore, se la barriera non cade non c'è l'errore. Per vincere bisogna essere precisi e quindi non fare errori e veloci. Nel tempo questo sport sta assumendo i connotati sempre della maggiore destrezza nei percorsi. Qui abbiamo l'onore in questa manifestazione di avere addirittura uno chef de piste ed è Andrea Colombo che viene dalla Lombardia, lui vive fra Milano e Varese ed è uno chef de piste molto quotato, è nel team di Uliano Vezzani e Uliano Vezzani è considerato il direttore di campo più importante al mondo tanto da mettere i percorsi anche per il Global Champions Tour che è una manifestazione molto importante che si svolge su tutto il pianeta e quindi lui, infatti, con Andrea partiranno la settimana prossima per Shanghai dove c'è appunto una tappa del Global. E quindi dicevo, questo sport è un'arte più che uno sport e per quanto attiene la domanda che mi aveva fatto prima vince appunto chi è più preciso e più veloce. Quella che si è disputata oggi come prima categoria della giornata è la categoria considerata più importante di questa giornata perché ha l'altezza più alta. I cavalieri hanno fatto un percorso da 1,30 m per larghezze fino a 1,50 m era una categoria a fasi consecutive pertanto i concorrenti ultimano la prima fase all'ostacolo numero 8 e passano poi alla seconda fase. Questo tipo di categoria, in particolare la 20 del prontuario FISE prevede che anche se c'è errore in prima fase si passa alla seconda fase e la selezione, quindi la classifica, viene stilata sulla base del minor tempo impiegato in seconda fase a parità di penalità. Quella che abbiamo visto appunto aver termine è stata una categoria che ha visto tre concorrenti senza errori nelle due fasi, quindi con zero penalità e ha visto lo sito che è un giovane concorrente barese a giudicarsi la categoria con zero penalità ma è stato il più veloce di tutti al secondo posto c'è stato Nicola Belacicco anche lui un cavaliere molto importante della nostra regione un cavaliere che lavora molto con i giovani cavalli ed è anche un allevatore e poi al terzo posto un concorrente che viene dalla Basilicata da Potenza Vito Corbo anche questo giovane, molto promettente e quindi c'è stato spettacolo quest'oggi già nella prima categoria quella che si sta svolgendo adesso invece è nella stessa formula però a un metro e venti l'unica differenza è che qui in questa categoria chi fa errore in prima fase dopo l'ostacolo numero 8 la campana mette fine al percorso e quindi non passa alla seconda fase questo è un concorso molto importante anche perché dà la possibilità a giovani promettenti, cavalieri di poter accedere anche ad un altro concorso quello di Verona di che cosa si tratta? Allora qui ci sono praticamente tutti gli junior e gli young rider interessati alla selezione per far parte della squadra rappresentante della Puglia alla Coppa delle Regioni che si tiene ogni anno a Verona pertanto sono convenuti in questa manifestazione tutti i giovanissimi concorrenti ricordo che gli junior sono dai 14 ai 18 anni e gli young rider dai 19 ai 21 che appunto hanno l'ambizione di far parte della squadra che rappresenterà la Puglia alla Coppa delle Regioni a Verona sappiamo tutti che Verona è l'evento clou dell'anno e pertanto i circoli, gli istruttori, i genitori ci tengono in maniera particolare che i propri allievi facciano parte di questa squadra in più da quest'anno c'è anche una novità e ad Altamura è l'unica tappa di selezione sarà selezionato anche un brevetto perché c'è una speciale categoria Fix Design è uno sponsor di abbigliamento tecnico per equitazione sempre a Verona e quindi la Puglia manderà anche il migliore brevetto che uscirà da queste due delle tre giornate di gara qui ad Altamura quindi questo è anche un motivo di prestigio per la famiglia De Bernardis perché appunto l'impianto è considerato un impianto di eccellenza in Puglia ovviamente sappiamo già che i programmi dei fratelli De Bernardis sono quelli di migliorare ulteriormente la struttura per renderla sempre più fruibile e magari passare anche a dei concorsi che abbiano una levatura nazionale però al momento è fra i due, tre centri più importanti della Puglia quindi complimenti alla famiglia De Bernardis grazie a tutti grazie a tutti